Come ho finito da poco la scuola e non sapevo subito cosa fare ancora nella vita. Quello che mi ha portato a iniziare tutto questo è stata un po' la curiosità, un po' il mettermi in gioco e il voler conoscere me stesso in diversi ambiti. Sono qui da quattro mesi e in questi quattro mesi sto ancora imparando a fare il mio mestiere. Una scoperta che comunque mi ha portato a conoscere un ambiente lavorativo fantastico oltre al lato relazionale proprio a livello di persone. È una multinazionale, è una realtà molto dinamica che offre tantissimo anche a noi giovani. Mi stanno insegnando veramente tutto quello che è il lato relazionale, cioè relazionarsi all'interno di un'azienda penso sia qualcosa di veramente importante e imparato all'età di 20 anni è qualcosa da non sottovalutare. Essendoci comunque il contatto continuo e giornaliero con le filiali, io spererei, chissà, magari anche un giorno di poter andare a lavorare magari all'estero in una delle nostre filiali. Spero di poter crescere come figura di progettista e disegnatore. Spero di poter spendere i miei studi, preferibilmente in un settore marketing. Punto a crescere sotto il discorso delle vendite e quindi di poter passare da assistente a venditore ufficiale. Mi vedo poter gestire un ruolo di dirigente all'interno del One Group. Questo percorso mi lascerà veramente qualcosa di mio, personale, che mi porterò sempre dietro.